Tommaso Scala ha scelto Flavia Fiadone dopo aver portato Germania nella sua ultima esterna di Uomini e Donne, andata in onda il 26-3. Tagliata fuori Carmen qualche settimana fa, Germana sembrava poter fare briccia nel cuore di Tommaso. Tuttavia, la volontà di Flavia di tornare a Uomini e Donne per riconquistare il tronista napoletano è probabilmente stata decisiva. Tommaso ha da settembre un debole per Flavia, che in una delle ultime esterne gli aveva sussurrato di voler fare l'amore con lui. Un sogno che la terza coppia uscita dall'edizione 2013-2014 del trono classico di Uomini e Donne potrà ben presto realizzare, Tommaso ha scelto Flavia.